Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano, grazie e grazie per essere qui per questo nuovo video in cui vi voglio parlare di alcuni strumenti di intelligenza artificiale che sto utilizzando negli ultimi giorni e che sono fantastici! Seguimi fino alla fine perché davvero sono bellissimi! Voglio iniziare immediatamente con questi strumenti. Il primo che ti faccio vedere è per gli amanti dell'intelligenza artificiale uniti alla fotografia, al disegno e così via. Infatti questo sito che vediamo è di Adobe, quindi un sito davvero di altissimo livello in cui possiamo mettere i nostri prompt e generale delle immagini con l'intelligenza artificiale. Ma non fa solo questo, andiamolo a vedere subito! Aspetta! Ti devo ricordare di iscriverti al mio canale, dai a te non costa nulla, per me è un grandissimo enorme piacere. Questi sono tutti gli altri miei social, vieni a trovare, andiamo! Eccolo, si chiama Firefly, Adobe Firefly, eccolo qui in alto. Io ci ho passato davvero un'intera mattinata insieme ai miei figli che mi dicevano cosa dovevo scrivere per poter gestire meglio e per vedere delle foto bellissime che loro volevano vedere. Potete immaginare quali prompt mi dicevano di mettere. Però guardate che non fa soltanto da testo a immagini, che è quello che vedremo adesso, ma anche il riempimento generativo che è davvero una cosa fantastica ed inoltre anche effetti di testo, poi vedete ricolorazione generativa e poi cose che stanno per arrivare, vedete, disponibili a breve e poi anche in esplorazione. Attenzione perché questo è completamente gratuito. Se vuoi puoi fare la registrazione al sito, altrimenti lo prendi così com'è. Ad esempio andiamo da testo a immagine. Vado su genera, gli possiamo dire di generare davvero tantissime cose. Guardate come qui ci sono degli esempi e puoi vedere anche i prompt con cui sono stati generati. Ad esempio se ci piace, non so, questo qui. Vedete come primo piano di una mano che raccoglie una singola fetta di pizza ai peperoni. Sapete che quegli americani chiamano peperoni, come dicono loro. Il salvo è piccante. Fotografia ad alta risoluzione. Boken, gocciolamento di formaggio. Vedete, questi sono i prompt che è stato messo per questa cosa. Bellissimo questa cosa dei peperoni. Vabbè, non è stata preparata. Però vediamo ad esempio se voglio fotografia di una festa di compleanno tra astronauti. Questi sono alcuni che già ho preparato per voi e che a me, insomma, hanno stupito. Poi magari scrivete qui nei commenti quali sono i prompt che tu hai messo, perché davvero li voglio provare anche io. Io non ho tantissima fantasia, eh. E guardate come ci dà una festa di compleanno tra astronauti. Poi, vedete, la posso scegliere e poi, non so, la posso modificare e magari mettendo degli sfondi, applicando dei filtri, delle regolazioni e così via. Vabbè, questo poi lo potete fare, potete esplorarlo come vedete. Guardate, guardate che bello che ci sono. Vedete come puoi anche mettere l'effetto Boken, che è un effetto molto particolare che ultimamente ci va davvero molto molto di moda. E qui poi puoi scegliere tantissime, tantissime altre cose da fare. Ne vogliamo un altro, magari una cosa del genere. Non so, le cose più strane del mondo possiamo mettere fotografia, fotografia di un drago che si scatta un selfie a Tokyo. Vediamo un po' che viene fuori. Eccolo qua, un bel drago che si fa una foto a Tokyo. Eccolo, vedete, potete scegliere poi quello che vi piace di più. Benissimo, ma questo, vabbè, l'abbiamo già visto, diciamo, esistono diverse cose. Ma guardate questo, riempimento generativo. Vado a caricare questa mia immagine e ad esempio all'inizio gli dico che voglio rimuovere lo sfondo. Quindi rimuoviamo lo sfondo e ci scriviamo che nello sfondo voglio, voglio nello sfondo l'oceano. Vediamo un po', voglio, forse l'ho scritto male, ma spero che lui mi capisca. E quindi qui sullo sfondo io adesso ci voglio uno sfondo mio. Ecco, vedete, l'oceano più o meno, insomma, una cosa del genere. Prendiamo magari questa che ci piace, ma gli diciamo mantieni ed inoltre gli diciamo di aggiungere. Ecco, aggiungere. Ad esempio voglio aggiungere qui sulla, su questa parte qui, che è la mia sinistra, dovrebbe essere la destra del personaggio che vedete in foto, gli dico di aggiungerci uno squalo. Vediamo un po', vediamo un po'. Quindi praticamente il riempimento generativo vuol dire che tu all'interno di alcune foto esistenti puoi modificare lo sfondo, ecco, mettere magari delle cose che tu vuoi, e vabbè, gli diciamo mantieni, ma magari da quest'altra parte ci voglio un sommergibile e così e così e via via dicendo. Benissimo, ti è piaciuto, riempimento generativo. Ma andiamo, andiamo, andiamo avanti perché guardate che qui abbiamo anche effetti di testo. Anche questo bellissimo, e cioè puoi scrivere delle intere frasi con come vuoi tu. Guardate, vedete? Firefly e il prompt è pelle di serpente olografica con piccole scaglie lucide, quindi vi potete divertire a mettere del testo qui all'interno, ad esempio gli scriviti, cosa che ti ho ricordato all'inizio, magari non con la pelle di serpente, ma con un palloncino rosa e oro, e magari adesso ci fa appunto gli scriviti con il palloncino rosa e oro come riempimento. Ti è piaciuto? Scrivilo qui nei commenti. Io davvero ci perdo tantissimo tempo, anche adesso, per ripreparare il video. Ci sono stato tantissimo tempo per vedere, insomma, le cose che poteva fare. Bello, bello, bello. Andiamo avanti. Il secondo di cui ti parlo è una estensione di Chrome con cui tu puoi dialogare con un sito. Sapete bene che abbiamo fatto degli altri video, ad esempio su Edge. Con Edge ti puoi permettere di dialogare con la pagina che stai visualizzando. Con Chrome, ad esempio, non lo puoi fare. Allora mi sono scaricato una estensione. Se sto navigando su un sito, sto leggendo, ad esempio, un articolo, voglio che lui me lo riassuma. Oppure voglio che mi scriva qualcosa, se per non leggere tutto l'articolo, e poi magari me lo vado a leggere con calma. Questa estensione si chiama Perplexity, mi sembra di ricordare. Come si mettono le estensioni? Lo sappiamo, siamo bravissimi, ormai chi mi segue sa, insomma, come fare. La troviamo e poi, una volta che l'abbiamo scaricata, guardate cosa fa. Se, ad esempio, sto navigando su questo articolo qui, e voglio, così, magari, un riassunto di queste cose che mi sta dicendo, guardate, Perplexity, eccola qui, qui in alto. Questa è l'estensione di cui ti sto parlando, e gli posso dire, appunto, mi riassumi l'articolo, gli do anche un, magari lo scrivo bene, l'articolo, e guardate, qui mi dice su tutto focus, no, oppure su tutto il dominio, oppure questa pagina. E quindi io gli dico di riassumermi l'articolo, che, diciamo, riguarda questa pagina qui, in particolare, e vado, batto invio, premo su questa freccia, e vedete come mi dice, l'articolo discute gli effetti della presenza dei robot sul lavoro umano, eccetera, eccetera, eccetera. Lo posso poi bookmarcare, quindi lo posso mandare, lo posso aggiungere alla mia raccolta, e così via. Vedete come qui poi ti dà anche il, come si dice, il rimando, e quindi il link all'articolo. Puoi copiarlo sulla clipboard, e magari poi incollarlo da qualche parte che a te interessa. Anche questa mi è piaciuta davvero tanto. L'altra che ti faccio vedere si chiama MyMind, ed è una estensione, ne esistono tante, ma questa è fatta con l'intelligenza artificiale, e quindi cerca di riorganizzare, di mettere i tag, vedete qui ci sono i tag, in modo che lui capisca quali sono le cose che ti interessano, per ricordare tutto ed organizzare niente, ci dice, perché noi mettiamo tutte le cose che ci interessano, video, articoli, articoli di giornale, e così via, blog, pagine, e così via, li mettiamo tutte all'interno, citazioni, ecco scusa, mi vengono in mente le cose un pochino così random, oppure immagini, eccetera, le mettiamo tutte dentro questo grande contenitore, e poi lui invece le va a fare una selezione per noi. Vedete, ad esempio, una volta che tu poi le metti all'interno, puoi farne una selezione. Facciamo vedere come funziona, ecco, immaginiamo che, torniamo sull'articolo di prima, questo articolo, io lo voglio tenere, questa è l'immagine, è l'icona, vedi, anche questa è un'estensione per metterla all'interno, vedete come mi dice, un momento, il tag, magari ci mettiamo intelligenza, intelligenza artificiale, gli do un tag, ne possiamo anche mettere altre, e questo è salvato sul mio MyMind. Ora, se io voglio andare all'interno del mio MyMind, ci vado, eccolo qui, questo è tutto il mio MyMind, posso anche salvare delle citazioni, e vediamo come si può fare, ad esempio mi metto qui, voglio prendere questa parte qui, clicco con il tasto destro, vedete come c'è, Add to MyMind, quindi posso anche fare il bookmark di pezzi di testo, oppure anche su delle immagini, vedete, clicco sull'immagine e gli dico Add to MyMind, vabbè, aggiungiamola, e qui adesso me lo sta salvando, e mettiamo come tag, ad esempio, soltanto AI. Poi se torno sul mio, sul mio MyMind, che è questo che sta qui, gli faccio il reload, vedete come ottengo l'immagine di prima, ed anche la citazione, vediamo, 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 non so dov'è, dov'è finita, però ci dovrebbe essere anche la citazione, ah no, quella non l'ho aggiunta, vedete, posso mettere anche delle immagini, magari, che mi voglio ricordare, e così via. Se ad esempio qui cerco fisica, perché alcuni tag sono di fisica, guardate come lui, alcuni me le mette già immediatamente sui tag di fisica. Oppure, gli dico AI, intelligenza artificiale, vedete, uno solo io gli avevo dato di AI, che era questo, guardate come mi mette anche un altro, che io non gli avevo dato questo tag, ma lui riconosce, tramite la sua intelligenza artificiale, che qui, siccome si parla di reti neurali, qui, questo è un altro articolo, vedete che i tag che io avevo messo erano ANN e reti neurali, ma se ho messo AI, lui automaticamente pensa che anche questo mi può interessare. Beh, ora ti faccio vedere l'ultimo, perché questo video deve essere veloce, e farti vedere tantissime cose, l'ultimo che a me piace tantissimo. Mia madre mi dice sempre, che io, mi diceva quando ero piccolo, che io non sapevo fare un O con un bicchiere, cioè non ero capace di disegnare nulla. Allora mi sono trovato questo sito, che mi aiuta a disegnare quello che voglio. Allora, io disegno a mano libera, anche con il mouse, lo potreste fare, ad esempio, anche con il vostro, con una penna, con una penna di queste, no, dell'iPad e così via. Io ve lo faccio vedere su computer con il mouse, quindi disegnando un po' male, lui interpreta ciò che io voglio dire. Questo sito è Powered, quindi è sponsorizzato da Google, ed è fantastico. Andiamolo a vedere. Eccolo, eccolo qui, si chiama Autodraw. Guardate, io qui posso fare l'Autodraw, vedete, qui sulla sinistra, e iniziare, ad esempio, a disegnare un omino, cosa che io, ad esempio, i miei studenti lo sapevano, quando disegnavo gli omini, li disegnavo tutti così, perché non so fare un O con un bicchiere, come ti dicevo. Magari ci metto anche le scarpe, vedete, come qui magari mi dice, guarda, magari vuoi disegnare questo, oppure vuoi disegnare questo. Ecco, perché l'ho disegnato veramente male. Se adesso io seleziono, lo tolgo, guardate, ad esempio, se voglio disegnare un'automobile, il mio sogno da sempre, come disegnare un'automobile. Forse mia madre non ha tutti i torti, che non so fare veramente nulla. Però guardate come adesso lui mi capisce, magari io posso disegnare anche un pulmino, o cose del genere, anche l'auto della polizia, che sta sempre il mio sogno. Magari posso mettere il fil, ah, ai 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 ai, il fil adesso mi ha fatto il fil di tutto. Vediamo un riempimento rosso, magari qui. Ecco, vedete, posso poi magari giostrarmela come voglio. Ho provato, ad esempio, anche a mettere, vediamo l'autodraw, adesso mi sono sbagliato. Vediamo un po' se voglio mettere una mela, non so, disegnare una mela così. Vediamo se mi capisce. Sì, eccola, guardate come mi disegna la mela. Poi magari, se io volevo disegnare anche altre cose, come, non so, anche una bellissima, come si chiama questa? Fragola. Poi, ecco, la puoi selezionare, la puoi copiare, incollare, salvare l'immagine, e farci quello che vuoi. Bello, bello, eh? Ti sono piaciuti questi video? Scrivilo qui nei commenti. Ora, io ti ringrazio tantissimo, perché tu ascolti i miei video, ti prego, mandali a tutti coloro che pensi possono soffrirne, e ora non mi resta che, ricordati di iscriverti al mio canale, questi sono tutti gli altri miei social, ti auguro una bellissima vita, un ottimo studio, ed un lavoro ricco di soddisfazioni, ti saluto il mio, ciao ciao, alla prossima! Grazie a tutti!